Buongiorno a tutti, buongiorno Buongiorno Grazie Buongiorno Dove sta Giorgio? Dove sta? Buongiorno 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 Se non vedo democratica di voi non vado a letto È una cosa L'asseggiata mi dà un'allegria Che tu non puoi sapere Guarda E stasera ci sarà un momento importante E la cosa importante appunto è Gli indecisi Hai capito? Un'appella agli indecisi? Un'appella agli indecisi Che ve l'ho detto Questo è il momento proprio In cui bisogna scegliere il momento del voto Proprio politico È un'appella a questa cosa contro la politica È il momento più alto, più bello Più esuberante, più entusiasmante Che capita nella vita di un uomo Io andrei a votare anche dieci volte all'anno Perché è il momento della scelta È il momento in cui siamo chiamati noi Con la nostra testa a dire La nostra visione del mondo Quindi è il momento più bello Ma con quello che c'è Veramente c'è una cosa straordinaria Che non è mai capitata C'è Walter Beltrò Walter! 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 Non è che dice Non vedo le differenze Ma ci saranno due persone così distanti Come Berlusconi e Beltrò Come il maggiore esponente È il partito a noi avverso E il maggiore esponente È il partito a noi amico Non c'è Io vi dico che non c'è Non c'è Guardate le arance È come vedere la differenza Tra un'arancia e una zucchina Ma come dire Dice non so chi votare È